Oggi ci troviamo a Casoli per proseguire nel nostro giro nei comuni dove si è votato lo scorso 2 giugno e dove ci sono dei nuovi primi cittadini. A Casoli c'è un percorso che prosegue con Massimo Tiberini che è stato per anni vice sindaco della giunta di Sergio De Luca, quindi diciamo una vittoria nel segno della continuità, vero? Sicuramente sì, la compagine è stata comunque rinnovata ma il senso di responsabilità e l'università che ci ha sempre guidato rimangono nella nostra squadra. Abbiamo un gruppo veramente con tanto entusiasmo, lo stesso entusiasmo sono stato anche un po' meravigliato nel ritrovarlo anche nei dipendenti del comune, nei responsabili dei servizi. Ho visto veramente una voglia di fare rinnovata che per me è veramente importante. Come primo atto ho nominato sicuramente la giunta e la giunta l'ho fatta così come avevo esplicitato in tutta la campagna elettorale, avvisando prima di tutti i miei componenti e assieme a loro ho avvisato tutta la cittadinanza sulle scelte che avrei fatto. Nel rispetto di tre cardini fondamentali che sono stati l'esperienza di amministrazione, la rappresentanza territoriale e sicuramente il consenso da parte di tutti i cittadini. Quindi con quest'atto ho nominato una giunta rinnovata e una giunta di maturità ed esperienza e ho voluto assieme a me, sicuramente al mio fianco, l'uomo più votato del gruppo che era il già sindaco Sergio De Lucca a cui ho voluto affidare due deleghe importanti. Per me importanti e per lui che ha una capacità oramai ultraventennale gli ho voluto dare l'urbanistica, è stato lui a compiere e a spendersi per il primo piano regolatore quando c'era l'architetto Zazzera e è stato ancora lui a fare la variante del piano regolatore a costo zero con l'architetto di Toro, quindi con il responsabile dell'ufficio urbanistica. E a lui ho voluto anche affidare la delega al bilancio. Assieme a De Luca ho voluto assieme a me come uomo di esperienza l'ingegnere professore Andrea Di Florio che ha una rappresentanza sicuramente di una contrata importante quale essa è Guarenna e dove abbiamo avuto un grandissimo vantaggio nei confronti della nostra controparte. E a lui ho voluto affidare le deleghe, per me anch'esse importanti, alla viabilità, all'illuminazione pubblica e alla gestione dei rifiuti dove lui è molto capace e sicuramente gli ho voluto dare una delega impegnativa sia per lui che per la nostra struttura che la delega al personale. Avendo veramente delle professionalità importanti in tutto il gruppo ho voluto affidare alla consigliera più votata e quindi l'assessore Barbara Di Lauro i servizi collettivi e alle persone, ossia il sociale. Gli ho voluto dare anche a lei un'altra delega molto importante che è la delega all'ambiente. E lei mi ha manifestato già prima dell'inizio della campagna elettorale la voglia di essere importante per l'ambiente e quale passione nutra per l'ambiente. Quindi quella delega era sicuramente per lei. Ho voluto dare una delega nuova, una delega che forse abbiamo anche peccato nella precedente amministrazione, ossia nella comunicazione. E lei ha questa delega, la comunicazione, dover rapportare in tutti i modi possibili ciò che si fa per la nostra comunità, ciò che si mette in campo con tutta la passione che possiamo mettere. E poi ho dato una caratteristica importante, un'altra delega che è il verde pubblico. Dobbiamo sicuramente curare la nostra cittadina. Alla dirigente scolastica, alla preside Colanzi ho voluto sicuramente dare la cultura, l'istruzione, la formazione professionale e ho voluto dare la semplificazione e innovazione. E a lei, come ho detto in tutta la campagna elettorale avendo delle capacità intrinseche che sono della sua figura ha voluto dare la delega all'accesso delle risorse strategiche dell'Unione Europea. A me chiaramente mi sono rimaste sicuramente il coordinamento su tutte le deleghe sarò presente in tutte le deleghe perché vorrò essere sempre a conoscenza dell'operato della mia squadra, della mia giunta. E ho sicuramente le deleghe ai rapporti con gli enti sovracomunali, con la Regione, con l'Ecolan, con la Sasi, con tutti gli enti in cui noi facciamo parte. Mi sono lasciato un'altra delega molto importante per la nostra comunità perché stiamo lavorando molto e che è la delega ai lavori pubblici. Vorrò essere io presente, vorrò essere sempre attenzionato su tutto. Ed infatti stiamo già portando avanti dei lavori che abbiamo completato che era quella dell'illuminazione pubblica nel corso dell'illuminazione a Contrada Selvapiana. E adesso stiamo facendo il rifacimento del corso principale di Casoli con una manutenzione straordinaria di tutto il corso Umberto I che parte da Piazza Brigata Maiella ed arrivare fino a sotto. Poi partiranno l'11 luglio i lavori alla tanto attesa Piazza Santa Reparata che sarà veramente un fiore all'occhiello per la nostra comunità e che darà uno sbocco sulla vallata di tanto rilievo a cui io personalmente tengo molto anche perché era un'opera forse voluta dai casolani già dal 1989 ed oggi noi la porteremo a realizzazione. Questo entusiasmo che ho trovato nell'aggiunta l'ho trovato anche da parte dei consiglieri. Ho voluto dare anche a loro delle deleghe specifiche e al consigliere Vincenzo Carafa che è stato un giovane veramente brillante in tutta la campagna elettorale. Ho voluto dare le deleghe allo sport, alle associazioni e ai rapporti con gli eventi. Quindi associazioni e eventi spettano a lui. E alla consigliera Martano Laura che anche ella ha ben figurato ed è una imprenditrice ho voluto dare la valorizzazione del patrimonio agroalimentare del nostro territorio. Poi un ruolo veramente importante ho voluto assieme a me come presidente del Consiglio Comunale il dottor Domenico De Petra. Veramente una persona capace, una persona che ha delle qualità specifiche nella gestione del gruppo, nel rispetto delle regole, nel mettersi a disposizione di tutto il gruppo. E tanto entusiasmo veramente che ho trovato all'interno dell'amministrazione l'ho trovata sicuramente tra i miei cittadini. È bellissimo. Io ho detto da subito che vorrò essere e che sarò il sindaco tra la gente, per la gente. Io sono nato a Casoli, ho vissuto a Casoli, ho vissuto tante associazioni casolane dalla banda, dal coro, veramente tante associazioni. E sono cresciuto con tanti amici, dalle scuole elementari, ho fatto il percorso scolastico qui a Casoli, elementari, medie e ragionerie. E quindi mi ci ritrovo molto bene. Abbiamo, come prima uscita pubblica, sono stato alle ragionerie a Casoli, un'emozione particolare. Assieme a dare un riconoscimento molto importante al professor Nicola Fiorentino con il premio, e era con noi anche il dottor Antonio Calabrese, e abbiamo dato il premio al Geri Marino, al professor Nicola Fiorentino. Un'emozione particolare perché io sono stato rappresentante di istituto e la prima uscita l'ho fatta la mattina lì al teatro comunale ed è stata veramente una gioia da parte mia. A seguire altre emozioni, tanta emozione e tanta passione, l'incontro con il Vescovo Eman Cuccini, che a Casoli la passione per la moto si sposa per la solidarietà e l'aiuto per il borneo, per la costruzione di asili, per la costruzione di convitti. E ho voluto accogliere il Vescovo assieme a tanti cittadini di Casoli perché Casoli non può rimanere fuori dalla solidarietà. Infatti la domenica mattina è stata una mattinata piena di sole, piena di gioia. E ho voluto invitare tutto il gruppo a fare la tappa conclusiva l'anno prossimo qui a Casoli. Il Vescovo è stato ben lieto di valutare questa opzione. Stiamo già lavorando con le varie associazioni anche per il cartellone estivo che a breve uscirà. Chiaramente dopo una campagna elettorale ci sono dei rodaggi da fare ma abbiamo fatto già diversi incontri con il nostro gruppo, con le associazioni esterne. siamo già in contatto per le varie attività che si fanno a Casoli. Abbiamo fatto un incontro con l'associazione sportiva per vedere le problematiche che ci sono qui a Casoli, sul campo sportivo, su che cosa le associazioni sportive hanno bisogno. Ieri sera sono stato al laboratorio di danza, qui alla sala polivente a Casoli. Ho visto tanti bambini che si sono esibiti, che hanno dimostrato una voglia di fare, una voglia di sorridere bellissimo. in una squadra e in un gruppo, che per me rimane sempre la parte fondamentale di ogni cosa. Non si può agire, non si può essere singoli. Bisogna sempre, sempre agire in gruppo e incrementare le forze e la voglia di fare. Abbiamo già fatto l'affidamento del palazzetto dello sport, abbiamo fatto l'affidamento della piscina comunale, per dare a queste strutture una guida importante nella realizzazione delle varie manifestazioni che si fanno qui a Casoli. E sia l'Azzurra Casoli che la ginnastica ritmica sono delle realtà veramente importanti, che raggiungono traguardi a livello regionale e sovraregionale. E a un sindaco questa cosa fa veramente piacere, per tutta la sua comunità. Stiamo lavorando all'affidamento anche di altre strutture che abbiamo qui a Casoli, che sono il campo da tennis, che è il bocciodromo, e questa cosa spero che si faccia a breve. Ho preso contatti con il presidente regionale del FAIL per mettere il castello e i vari attrattori di Casoli al centro dell'attenzione, anche nazionale, perché sono dei beni importantissimi per Casoli, per il territorio e circostanze, ma io vado anche oltre, per tutta la regione Abruzzo, perché dobbiamo essere veramente e lavorare in modo condiviso. Casoli vuole essere parte fondamentale di un territorio molto più vasto, di un'area molto più estesa. E dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare tutti assieme. Io voglio il coinvolgimento di tutti, delle associazioni, voglio i consigli che mi vengano da ogni parte. Sono pronto ad ascoltare tutti, ho voglia di ascoltare tutti, poi facciamo sintesi e andiamo avanti in un lavoro proficuo per tutti. Grazie.